Professor Zarmiani, siamo in tempo di transizione nel mondo del lavoro, rivoluzione informatica 4.0. Verso quale scenario stiamo andando? Prevedere in una fase di grande trasformazione come l'attuale il futuro, anche prossimo, è operazione impossibile. Non servirebbe neanche tanto. Più importante invece è capire quali sono le sfide che la rivoluzione del digitale, già iniziata 15 anni fa, sta ponendo al mondo del lavoro. Allora, la prima osservazione ha a che vedere non tanto l'aspetto quantitativo, ma quello qualitativo. Lo so che ci sono persone che sono preoccupate del fenomeno della cosiddetta sostituzione. I robot dotati di intelligenza artificiale andranno a sostituire i lavoratori. Ma non è corretto, perché quello che le nuove tecnologie vanno facendo è la trasformazione del lavoro, non tanto la eliminazione del lavoro. Per farmi capire uso sempre una sorta di analogia storica. Quando Gutenberg inventò la macchina stampa, nel giro di pochi mesi tutti gli amanuensi perdettero il lavoro. Rimasero, come diremmo oggi, disoccupati. Ma da lì a poco si trasformarono in librai, cioè in persone capaci di stampare. E quindi la grande invenzione della macchina stampa determinò un aumento occupazionale. Ecco, qualcosa di analogo, mutantis, mutantis, vale oggi. Quindi non serve fare allarmismi del tipo le nuove tecnologie distruggeranno il lavoro. Chi dice questo dimostra di non capire. Oppure capisce e ha degli interessi nascosti che non vuole dire. Perché questo serve solo a spaventare o a tenere bassi i salari. Perché è chiaro che se io spavento i lavoratori, a un certo punto dico loro o va accontentante di un salario da fame, o altrimenti non ci sarebbe da fare. E questo è quello che in effetti sta succedendo. Quindi è meglio dire la verità. E cioè quello che avverrà è una trasformazione dei profili professionali e delle competenze lavorative. Questo adeguamento non può avvenire in maniera né istantanea né automatica. Gli amanuensi si trasformarono in librai dopo qualche, direi, mese di esperienza pratica. Perché bastava avere un po' di saggezza e di buona volontà per imparare. Oggi non è così. Perché se io ho fatto il tipografo oppure ho fatto una certa occupazione, da solo non ce lo farò mai a scrivere programmi sulla base dei quali far funzionare poi il robot, eccetera. Ho bisogno di almeno un anno durante il quale qualcuno, che può essere a volte lo Stato, ma meglio ancora la società civile organizzata, mi organizza dei corsi di alta formazione il cui obiettivo è quello di effettuare il cosiddetto retraining in inglese. E cioè riprendere una, diciamo, attività lavorativa su una traiettoria più alta rispetto a quella del passato. Il punto è che la gente che oggi viene dismessa, nessuno si prende cura. Quando va bene, cosa succede? Che l'ente pubblico dice io per sei mesi, otto mesi, ti do tot euro al mese per consentirti di mangiare. Questo è un errore fondamentale, perché dopo quegli otto mesi quella persona è nella medesima situazione iniziale. Bisogna invece usare quelle risorse per dire adesso vieni a seguire corsi, ma non corsi teorico, astratti, eccetera, corsi veramente abilitanti, qui l'accordo con il mondo dell'impresa è fondamentale, perché dopo questo periodo che può durare fino ad un anno, la persona è in grado di muoversi sulla alta traiettoria tecnologica. Questo è il punto che occorre dire in tutti i modi, perché se si va nell'altra direzione, non si farà altro che peggiorare la situazione. Invece dobbiamo gridare dai quattro cantoni che gli enti pubblici devono smettere di fare assistenzialismo e devono porsi il problema invece di realizzare le condizioni della cosiddetta traversa, nel linguaggio comune la transizione, perché questa transizione non è né istantanea e non può essere automatica a carico del lavoratore stesso. Però è anche legittimo pensare, soprattutto se questa nuova, chiamiamola rivoluzione digitale, non è una rivoluzione inclusiva per quanto riguarda il mondo del lavoro. Ah beh, è chiaro, è evidente. E questo cosa significa? Significa per i più giovani che bisogna rivedere in maniera radicale il sistema scolastico universitario, perché il nostro sistema scolastico universitario, quando dico nostro, non solo dell'Italia ma in Europa e quindi anche della Svizzera, è un sistema pensato per una fase storica in cui si viveva dentro la seconda rivoluzione industriale. Oggi siamo alla quarta rivoluzione industriale, però la nostra scuola è rimasta indietro. I giovani escono dai licei o addirittura dalle facoltà universitarie, sanno tutto, ma non sanno fare niente. Ed è il motivo per cui dopo le imprese ti dicono non abbiamo bisogno di voi e così via. Ecco allora perché bisogna riprendere questo concetto che ad esempio Papa Francesco va dicendo da tempo. Una grande alleanza per il lavoro che veda imprese e scuola, scuola in senso ampio, inclusiva, cioè dell'università, in grado di mettersi attorno al tavolo e riscrivere le regole con le quali la formazione deve avvenire. Quello che non è più possibile è tenere la separazione. Prima studi, poi vai a lavorare. No, no, no. Perché bisogna insegnare a lavorare mentre si studia e viceversa. Mentre si lavora bisogna continuare ad acculturare le persone per la ragione che prima ho ricordato. Dunque due temi importanti, formazione ed educazione. Oggi possiamo parlare di nuove forme di educare, di formare? Esatto. E questo è un nodo, come probabilmente si sa, il 14 maggio prossimo Papa Francesco ha radunato in Vaticano i capi di Stato e di governo dei paesi più avanzati e delle grandi istituzioni come le Nazioni Unite, l'UNESCO, per chiedere loro di siglare quello che lui ha voluto chiamare il Global Pact on Education, cioè il patto globale sull'educazione. Qual è il punto? Il punto è che bisogna tornare a parlare di educazione e non solo di formazione. Perché? O istruzione. Perché l'istruzione o formazione è esattamente il contrario dell'educazione. Se si riuscisse a far capire questo dai politici, anche gli stessi intellettuali, saremmo veramente vicini alla soluzione dei problemi. Con l'istruzione io metto dentro la testa dell'allievo concetti, nozioni, conoscenze varie e ci vuole, ci mancherebbe altro, perché le competenze si acquisiscono con l'istruzione, cioè con la formazione. L'educazione è il processo opposto. Educere in latino vuol dire tirar fuori, cioè con l'educazione io tiro fuori dalla testa della persona, giovane o meno giovane che sia, la sua conoscenza per metterla in funzione dell'agire, cioè dell'azione. Ecco perché oggi una nuova parola, mi correggo, non è nuova perché esisteva, ma per circa 70-80 anni è stata messa in cantina, che è la parola conazione. Conazione, e vedremo che fra un po' tornerà a circolare, anche a livello di cultura popolare, è la crasi tra due parole, conazione, conoscenza, azione. Cioè bisogna che riallacciamo il legame tra la conoscenza e l'agire, perché fino a tutt'oggi è stata tenuta la separazione. Tanto è vero che a livello popolare si dice, ah io studio, non lavoro, e cosa? Ah perché studio, oppure io non studio perché lavoro, come se studio e lavoro fossero due polarità fra di loro opposte. Ecco allora perché tornare a rendere la scuola un luogo di educazione è di fondamentale importanza e questo sarà uno dei punti centrali dell'appello del prossimo 14 maggio in Vaticano da parte di Papa Francesco. Da anni lei si sta impegnando per l'economia civile, e come questa economia civile può entrare in questo nuovo sistema economico, finanziario e sociale? Quello dell'economia civile è un paradigma, paradigma parola greca, che significa il modo, lo sguardo sulla realtà, che è nato in Italia nella seconda metà del 1700, durante il periodo dell'illuminismo napoletano e poi milanese. Ai fini del nostro discorso qual è l'idea di base dell'economia civile? Quello di pensare l'ordine sociale, cioè l'organizzazione di una società, basato non solo sui due pilastri di cui fino ad ora si è sempre parlato, il pilastro dello Stato e del mercato, ma di aggiungere il terzo pilastro, quello della comunità. Quindi per l'economista civile l'ordine sociale è un ordine tripolare, Stato, mercato, comunità e quando si dice comunità si fa riferimento a tutte quelle organizzazioni, la Caritas è una di queste, che hanno come loro principio guida il principio di reciprocità. Il principio del mercato è lo scambio, lo scambio di equivalenti, il principio base che regola gli interventi dello Stato è il principio di redistribuzione, lo Stato è l'unico ente che ha la potestà di tassare, il principio regolativo della comunità è il principio di reciprocità. Ora se facciamo attenzione, l'errore fondamentale, per colpa in primis degli economisti, ma anche di altri, è quello di pensare che una società possa funzionare e fiorire, progredire solo raffinando i meccanismi dello scambio e della redistribuzione. E' ovvio che lo scambio è importante eppure la redistribuzione, ma non bastano. Noi dobbiamo mettere in campo il principio di reciprocità. E solo chi ha fatto esperienza di volontariato in un'organizzazione come la Caritas e altre, sa cosa vuol dire in pratica mettere in atto il principio di reciprocità. Questa è l'idea base. Ovviamente ci sono altre differenze tra il paradigma dell'economia civile e il paradigma dell'economia politica, ma ovviamente per ragioni di sintesi non ne faccio parola. Papa Francesco nel mese di marzo 2020 ha convocato i giovani economisti e non solo per parlare dell'economia di Francesco. Quali sono le aspettative di questo genere? Esatto, questo è un evento straordinario. Non è mai successo nella storia bimillenaria della Chiesa che un Papa convochi 500 e poi 2000 giovani economisti, giovani imprenditori per quattro giorni parlare di economia. Di solito la Chiesa è sempre convocato per parlare di teologia, di pastorale, di pedagogia, eccetera. Ora questo è il punto. Come mai un personaggio come Papa Francesco? Perché ha capito, Papa Francesco, quello che molti ancora non ha capito. Se non passiamo dal paradigma dell'economia politica a quello dell'economia civile, non ci sarà molto da fare. I problemi che angustiano le nostre società oggi non potranno che aggravarsi. Ecco allora che questi laboratori durante i quali questi giovani economisti, giovani imprenditori discuteranno per tre giorni sulla base, ovviamente un documento di base, l'obiettivo del tutto è di arrivare a convincere, a far capire, cosa che peraltro si comincia a capire, dell'inadeguatezza del vecchio paradigma e di passare al nuovo. Dove? Cioè, il principio di reciprocità, il principio del bene comune venga messo. Perché oggi tutti parlano di bene comune, ma pochi sanno ciò di cui parlano, perché confondono il bene comune con il bene totale. E il bene totale è una cosa, il bene comune è un'altra. Ecco allora questa opera di chiarimento, ma soprattutto di assunzione di responsabilità per un mutamento che è possibile, è l'aspettativa che non solo Papa Francesco, ma tutti si augurano possa essere realizzata.